Onda evitare di portare più di 30 calciatori nel ritiro di Mercogliano, Enzo De Vito si è prefisso di dare un taglionetto alla rosa nei prossimi tre giorni, mettendo in calendario appuntamenti a ripetizione con gli agenti degli indesiderati. Il primo a lasciare il gruppo, senza quest'anno mai metterci piede, è Simone Ciancio, che prenderà la strada per Novara senza incassare incentivi all'esodo. Agente e calciatore hanno percorso la strada del dialogo dopo che l'Avellino ha seriamente minacciato di deferirlo per aver disputato un torneo estivo di beach soccer senza il relativo permesso. Avviati alla risoluzione però ci sono anche Mignanelli e Carriero, con quest'ultimo che dovrà successivamente scegliere la destinazione tra Gubbio e Ancona. Rescinderà, ma non certo a costo zero, Luigi Silvestri, mentre per Vincenzo Plescia si sta allimando l'accessione in prestito alla Carrarise, che si accollerà quasi l'intero ingaggio per la stagione alle porte. Trattandosi di sondaggi, per adesso soltanto informativi, i vari Mastalli, Tito, Scognamiglio e Sbraga andranno invece in ritiro da separati in casa, mentre per Francesco Forte si registra un certo attivismo nei colloqui con l'agente Maurizio De Rosa, lo stesso di Marco Armellino. L'oggetto del desiderio di Enzo De Vito per adesso non si muove da Modena, ma non appena i canarini di Tesserri metteranno altri centrocampisti, il suo status è destinato a cambiare. Discorso più avanzato invece è quello intavolato col Pisa per Gucker, l'austrieco che ha ancora due anni di contratto, non è partito per il ritiro con la squadra allenata da Maran, ma a Cosenza e Perugia, squadre di Serie B che lo corteggiano. Quanto basta per congelare qualsiasi discorso, ma almeno per la prossima settimana Enzo De Vito non ne farà un dramma, anche perché prima di completare la rosa ha la priorità di sfoltirla, tranciando in maniera netta almeno una decina di spine.